Simonetta Ciandivaci, benvenuta nel Posto delle Parole. Ciao, grazie. Ed eccoci qua, insieme con Simonetta Ciandivaci, a condividere questa sua scrittura intitolata I figli che non voglio, il libro uscito poche settimane fa da Mondadori nella collana Strade Blu. Simonetta Ciandivaci lavora alla redazione Cultura del Quotidiano La Stampa, ha scritto per il Foglio, l'inchiesta, Rolling Stones, La Verità, La Repubblica, ha collaborato tra l'altro con la RAI in radio e in tv come consulente e autrice. Collabora con la Scuola Holden di Torino, l'Accademia Molly Bloom ed è redatrice di Nuovi Argomenti. In 30 secondi, per chi non conoscesse quella bellissima rivista, che cos'è Nuovi Argomenti, Simonetta? È una rivista storica, una rivista letteraria che era nata da Pasolini, Moravia, con l'intento di tirar fuori di nuovi talenti e poi di fare una rivista di intervento appunto con i nuovi argomenti, i nuovi temi. I nuovi argomenti, i nuovi temi è questo del libro che stiamo per raccontare, seppure nella nostra brevità, coincide anche con questo. Simonetta Ciandivaci, prima di entrare dentro le parole, entriamo dentro le immagini di copertina. Che cosa ci dice? Ci dice che ci sono delle donne accanto, vicino a dei passeggini e però hanno la testa altrove. Non dentro i passeggini, ma nelle lampade, nello spazio intorno. E quando è nato questo libro io ho pensato che fosse un'immagine efficace prima di tutto perché era l'immagine che avevamo scelto qui alla stampa per corredare l'articolo che ha dato inizio a quello che poi è confluito nel libro. Ed è stato un inizio mica da poco perché quell'articolo uscito sulla stampa ha suscitato un bel battaggio di lettori. Sì, si chiamava esattamente I figli che non voglio ed era, io avevo cominciato a pensarlo in questo periodo, proprio l'anno scorso, poi era uscito a gennaio, perché questo è il periodo in cui l'Istat tira fuori i dati su quello che viene così chiamato l'inverno demografico. E a noi interessava trovare una nuova chiave per raccontarlo e per osservarlo. E io ci ho ragionato un po' e ho pensato che fosse arrivato il momento di dire che esiste una percentuale di persone in questo paese e anche altrove che i figli non li fa pur potendoli fare perché non li vuole, perché sceglie di non averle. Anche se è una piccola percentuale, però è una percentuale su cui posare l'attenzione. Sì, e non, la mia intenzione non era e non è tuttora rivendicare quella posizione lì perché ha una sua dignità. Certo che ce l'ha, ma perché ci aiuta a guardare la denatalità come un fatto socioculturale che è destinato a ridisegnare la nostra geografia politica e soprattutto un fatto da non giudicare. Anche perché questo ci serve quando i nostri politici continuano a raccontarci una cosa che peraltro non fanno e cioè che questo inverno demografico noi lo dobbiamo risolvere con delle politiche di incremento incentivo per la natalità e di sostegno alle famiglie benvenute, ma magari fosse vero. Però il punto è che se esistono anche delle persone che invece i figli non li vogliono fare, resteranno anche con il welfare migliore possibile e più family friendly, come si dice, quelle persone resteranno. E io credo tra l'altro che saranno, sono destinate ad aumentare. Ci sono altri paesi in Europa dove pur essendoci politiche molto accoglienti si registra un calo delle nascite. Quindi questa cosa noi dobbiamo cominciare ad osservarla. Gli ultimi datisti di quest'anno per esempio che cosa dicono? Dicono che è vero che sono nati meno bambini, ma è vero anche che sono nati meno bambini perché ci sono meno donne fertili. Cioè la nostra popolazione sta invecchiando. Allora questo è un altro dato che ci dice che questo problema noi non lo risolveremo soltanto con politiche di incentivo ma il cosiddetto sistema che non regge così com'è ed è vero che non regge perché il nostro sistema pensionistico non può reggere se c'è un incremento del calo demografico. Ecco allora noi dobbiamo ripensare le nostre società dal profondo e in più e chiudo la denatalità è almeno in questo dibattito che poi ha coinvolto molte altre intellettuali scrittrici, giornaliste e tantissimi lettori anche uomini ci sono interventi di papà ecco la denatalità è anche un bellissimo modo di parlare di libertà personale soprattutto di libertà delle donne perché nel momento in cui noi sgomberiamo il campo della scelta delle scelte che si possono fare nella vita da un percorso obbligato come è stato fino ad adesso la maternità succede qualcosa succede qualcosa di molto interessante e si desacralizza la maternità e la genitorialità al punto che se ne beneficiano i figli ne beneficiano i genitori eh sì però qui è uno sguardo culturale completamente nuovo che noi dobbiamo inserire noi e chi sta dentro le istituzioni a cominciare da loro ma il lavoro che ci sottopone Sionetta Sciandipasci in questo libro I figli che non vogliono è un lavoro anche di narrazione per forza di cose un libro ma di narrazione collettiva perché questa è anche un'idea portante di questo libro Simonetta sì è vero perché appunto ecco e quel libro lì io dico sempre che in fondo sembra un giornale perché sì c'è un raccordo di tante cose che sono arrivate nel giornale quel dibattito dopo il mio pezzo noi abbiamo fatto questa cosa abbiamo letto tutti i commenti che ci sono arrivati in massa e abbiamo scremato dopo gli insulti abbiamo cominciato a leggere perché questa è una cosa che io consiglio sempre di fare non fermiamoci agli hater perché poi ci sono invece anche delle persone che vengono soffocate da questa massa gli insulti e non vengono lette ma invece poi i lettori le persone che vogliono dibattere e che vogliono farlo in modo costruttivo esistono e sono persino di più degli hater posso garantirlo almeno in questo dibattito io ho imparato questa cosa quindi abbiamo visto cosa ci leggevano i lettori e abbiamo coinvolto prima dei nostri collaboratori e delle nostre collaboratrici sul tema e poi ci siamo limitati a pubblicare quello che ci arrivava ovviamente selezionandolo perché un giornale fa questo anche seleziona di cosa parlare seleziona chi far parlare questo è importante fondamentale la funzione di intermediazione è questa qui e quindi poi sul libro io ho trasferito un'ulteriore cernita rispetto a quella che già avevo e avevamo fatto sul giornale è un libro corale dove ho cercato di far sì che fossero presenti delle voci che componessero un mosaico e che quindi si parlassero ogni racconto sembra anche se non era voluto quando sono usciti sul giornale ma poi quando li ho raccolti ogni racconto è una domanda rispetto a quello che lo segue o una risposta a quello che lo precede eh sì è perché sono legati da questo però io vorrei toccare questo argomento se non ricordo male nel contributo di Carlotta Vagnoli Mathersen per certissima quando lei dice che il mondo non è pronto ad accogliere la pluralità del concetto di maternità perché non lo sa leggere come processo individuale questo credo che sia un aspetto nodale del nostro sguardo ancora oggi Simonetta sì ecco questo ti ringrazio per averlo sottolineato perché anche per me è molto importante e io tra l'altro l'avevo scritto nel mio pezzo cioè cosa dice Carlotta dice io voglio un figlio lei ha 35 anni però lo voglio fare da sola e mi rendo conto in Italia tra l'altro non è possibile non è possibile neanche l'adozione per i single e quindi questo è un problema perché invece ci sono molte donne che questa cosa la vorrebbero poter fare e invece è osteggiata da tutti i punti di vista però lei scrive questa frase che a me è molto colpito diventare madre per noi significa sempre rendere un uomo padre e invece non è così perché appunto noi siamo abituati a pensare che la maternità non può essere un fatto solitario e a questo aggiungo una cosa che c'è in moltissimi contributi noi pensiamo proprio che i genitori le famiglie finiscano all'interno di quel nucleo che siamo abituati a pensare e che abbiamo visto madre padre figlio o figli invece una cosa che molti desiderano almeno io l'ho registrata è una genitorialità condivisa dovremmo imparare a sentirci comunità in questo e pensare che i bambini che ci sono fuori anche se non li abbiamo messi al mondo noi sono nostri questo è un cambiamento culturale che aiuterebbe moltissimo anche la nostra politica informerebbe le nostre e istruirebbe le nostre leggi in modo diverso pensa a quanto sarebbe rivoluzionario e importante perché la maternità non è un'espressione di sé la maternità è la maternità punto a capo esatto sì è vero è così tra l'altro poi questo è un altro problema culturale del nostro paese che siccome ci raccontiamo che l'amore materno è l'amore assoluto e quindi tutti gli altri amori per essere validi devono assomigliare a quello lì invece non è vero la maternità presuppone un certo tipo di affetto un legame è un assoluto è una cosa a sé non si è madri che di un figlio non è vero che si può essere madri anche di un libro del proprio lavoro sono affezioni differenti e quindi lo dico da donna che figli non ne ha e non ne vuole avere io ho profondo rispetto invece dell'unicità della maternità che ha al suo interno anche delle grosse problematicità che le donne stanno cominciando a raccontare eh sì per cominciare a raccontare però bisogna bisogna sapere e questo libro è una porta verso il sapere di questo e molto altro ancora i figli che non voglio ed è anche molto bello prima di chiudere vorrei citare questa cosa nel testo di Daniele Mencarelli e Marco Franzoso quando cominciano dicendo i primi risultati che dà Google quando si scrive mio padre nella barra di ricerca questo è veramente la dice lunga no? la dice lunga sullo stato sullo stato delle cose Simoletta Shandivashi prima di salutarci qual è invece il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Allora in questi giorni sto leggendo un libro di Ornà che adesso non ricordo il titolo ma edizione mi scuso ma perché comunque racconta è una è una collezione di racconti sulle madri che si sono pentite di aver fatto un figlio è uscito l'anno scorso per Bollati Boringhieri pentirsi di essere madri esatto quello lì ed è un libro che sembra io temevo molto di leggerlo perché avevo paura che fosse un libro violento invece è un libro preziosissimo molto molto delicato è molto molto interessante e poi sto leggendo un'altra antologia perché stanno uscendo molte antologie e io sono felice perché mi piacciono curata da Teresa Ciabatti data di nascita per Solferino è uscito qualche settimana fa ed è una sorta di antologia generazionale diciamo ci sono dentro i racconti degli scrittori millennial italiani segnalo in particolare quello di Elisa Casseri che si chiama La Dote e racconta un fatto vero che lei ha vissuto a un certo punto quando è tornata a casa per Natale visto che siamo siamo in quel periodo ha riaperto il baule della sua dote trovando meraviglie ve lo consiglio è molto divertente molto molto bello è proprio uno spaccato dell'Italia ma parlo di tutte le di tutti i racconti affascinante data di nascita cura di Teresa Ciabatti pubblicata da Solferino intanto ricordo i figli che non voglio pubblicato invece da Mondadori per Simonetta Scandivaci che ringraziamo e tanti auguri grazie anche a voi grazie 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 a tutti